terzo episodio della nostra carriera manageriale qui su FIFA 23 con il Torino signori ben ritrovati in questo nuovo episodio ancora una volta calcio mercato per oggi finalmente si comincia a fare sul serio perché inizierà la Serie A inizierà il campionato, inizierà il percorso del Torino in questa nuova stagione dove affronteremo la prima giornata all'Inter in un confronto in una partita già sin da subito davvero molto difficile. Partiamo però subito con le scelte di mercato GG abbiamo detto che è un giocatore in scadenza di contratto prossima stagione si potrebbe liberare a zero non abbiamo intenzione di rinnovarlo e nello scorso episodio avete visto un'offerta proposta all'IL di 2 milioni che loro hanno rifiutato perché si avvicina forse un po' troppo alla sua clausola recessoria trattiamo l'offerta però che viene dalla Germania puntualmente viene rifiutato allora 1.750.000 perfetto allora non sono 2 milioni non sono i 2.900.000 euro della sua clausola però perlomeno l'abbiamo alzato un po' e vi ricordo sono comunque comodi per un giocatore che poteva tranquillamente liberarsi a zero. Nel primo episodio ragazzi vi ho parlato della primavera due incarichi uno in Italia dotato tecnicamente uno in Albania per l'attaccante in realtà avevo mostrato solamente un incarico ce ne sono adesso due e vi mostro i giocatori che ho deciso di spostare nella nostra primavera e che probabilmente presto potrebbero anche debuttare in prima squadra. Dall'Italia Alex Bruno a S e S e D attenzione però che qualora dovessimo spostarlo sulla fascia destra dobbiamo essere consapevoli che piede debole ha solamente una stella quindi questo è chiaramente una forzatura è un problema è un giocatore che sa utilizzare solamente bene il piede sinistro però ragazzi ha veramente già delle qualità delle statistiche abbastanza interessanti è di sicuro un giocatore di fascia quel dribbling quella velocità a soli 16 anni promettono molto bene anche quel 62 diciamo che non è male bisogna lavorare nel resto bisogna lavorare nel fisico bisogna lavorare nella difesa bisogna portare quei valori ad un valore sufficiente che attualmente non è perché è pienamente insufficiente. Stiamo già parlando di ragazzo che potremmo quasi sin da subito poter anche coinvolgere in questo inizio di stagione magari presto non subito però probabilmente magari qualche partita gliela faremo fare. L'altro invece è un centrocampista offensivo o centrocampista centrale per come giochiamo noi sarà probabilmente spostato nel ruolo di cc però ragazzi fisico 49 difesa 28 un valore veramente estremamente basso ha già 17 anni che si è giovane si può migliorare ma non mi aspetto che quel valore che quei valori possano aumentare più di tanto diciamo che su di lui fate conto che era il miglior profilo che potevamo trovare poteva andare decisamente meglio certo ha dalla sua un equilibrio fantastico quindi in realtà quello che si va a perdere sono poi le sue scelte difensive la cosa che diciamo fa discutere di più però vedete insomma centrocampo uno che ti porta aggressività neanche 30 intercettazione 26 questo praticamente non ha proprio la minima concezione di come poter difendere però ripeto sono giocatori che sono ancora giovani possono crescere possono migliorare quindi io probabilmente disposterò comunque in prima squadra giusto per allenarli starci sopra e poi vedere diciamo se nel giro di pochi mesi si nota poi un miglioramento importante e ripeto poi potrebbero anche capitare le prime occasioni per farli giocare difensore che va difensore che potrebbe arrivare gaston alvarez fate conto che lui diciamo potrebbe essere il nuovo rodriguez per quanto riguarda il torino per quale motivo non solo ruolo piede ma anche appunto il doppio ruolo terzino sinistro poi asa un giocatore che può spingersi anche in avanti un giocatore che tra l'altro anche un buon livello sul piede debo le tre stelle non sono affatto male sicuramente da far crescere sicuramente ancora giovane sicuramente non titolare però comunque ci prepariamo poi per la stagione futura e iniziamo insomma a lavorare anche su profili un attimino più giovani cambio con rodriguez pensate cambio di manco farla apposta beh giustamente loro si andrebbero a privare del di un giocatore titolare e quindi chiaramente vogliono rodriguez non l'alziamo più di tanto solamente di 500 mila che poi davvero è assurdo ragazzi ci pensate perché chiedevano rodriguez più soldi e poi accettano 3 milioni e 500 vabbè insomma contenti loro contento soprattutto juric 4 anni di contratto nessuna clausola e possiamo anche accettare le sue condizioni quell'offerta dalla gente signori abbiamo un nuovo difensore centrale come ho detto non stiamo parlando di un titolare vedremo poi se quando coinvolto riuscirà a convincere juric a poi sostituire uno come rodriguez che per me ancora anche quest'anno rimane comunque la prima scelta è un giocatore comunque che sarà coinvolto molto singolo vuole giocare chiaramente con l'inter giocherà non ho mai pensato a mettere un altro giocatore se non appunto singolo in quel ruolo quindi chiaramente con l'inter sarà presente prima giornata di campionato stadio olimpico grande torino torino inter scelte di formazione abbastanza coraggiose soprattutto in una zona di campo dove dal primo minuto il debutto del nuovo acquisto kennedy comprato nell'episodio scorso mostrate adesso in erazzurri con dei rinforzi vediamo là davanti lukaku patricic ma soprattutto liru asane un inter che ha deciso di spendere decisamente tanto di comprare dalla germania dei giocatori davvero molto forti ancora giovani che possono dare un contributo enorme alla squadra nata da simone inzaghi tra poco scelte di formazione eccolo qua il 3421 di ivan yuric in questa partita ragazzi da qui in avanti iniziano anche a fare più modifiche per quanto riguarda le posizioni tutto altrimenti diciamo che modalità è diciamo che noi cercheremo a differenza magari di altre carriere di toccare qualcosa di più a livello di tattica durante la partita cosa che magari prima si faceva pre partita e poi non si andava a fare nel corso dei 90 minuti queste le scelte di formazione vediamo anche lo schieramento inter se viene confermato e quindi sempre difesa 3 ma immaginiamo di sì la difesa 3 è quella devrai scrini arbastoni con in porta onana al posto di andanovic con la panchina che non presenta novità le principali novità sono rappresentate dal nuovo esterno sulla fascia sinistra liru asane e dall'attaccante che momentaneamente sostituisce l'autaro martinez che non vediamo neanche in tribuna quindi probabilmente non vediamo neanche in panchina quindi probabilmente venduto tra l'altro ragazzi fatemi sapere se vi piacerebbe vedere queste partite con una visuale diversa perché alcuni hanno detto che con questa visuale non è proprio bellissimo ripeto fatemelo sapere mi raccomando questo tre commenti in attenzione nicola barella perché è andato a scivolare un nostro difensore probabilmente si è trattato di buongiorno subito contro una grandissima tanto patrick chic le finte lukaku c'è sané tutto solo la può piazzare sané la prima occasione per l'inter il primo gol al minuto 9 minera azzurri quest'oggi in maglia gialla in vantaggio col nuovo acquisto che al debutto segna subito si presenta così liru a sané per quanto riguarda kennedy lo mettiamo gioca largo e sugli inserimenti inserisciti alle spalle l'ampiezza la portiamo a 60 non voglio abbassarla troppo ma non voglio neanche tenerla troppo alta però la copertura ottima da parte di evrai il possesso pala riconquistato dal torino su errore inter sanabria ci prova da fuori un'ana salve nerazzurri salire la squadra cerca dovris sul pallo lontano milinkovic miracolo di sergei e poi lukaku ancora milinkovic attenzione a barella poi brozovic potrebbe calciare scrignar il pallone arriva chic che sfortunato e poi dumfries quasi un assist questo da parte del legno e segnerà doppio inter denzel dumfries va da barella poi dumfries lukaku sinistro sono tre 26 minuti l'inter fa quello che vuole allo stadio olimpico grande torino in ritorno al gol anche di romero lukaku c'è la noglue appoggio dietro per devrai e allora denzel dumfries va a verticalizzare per patrick chic poi c'è la noglue barella il movimento da parte di lukaku buongiorno in qualche modo intercettare poi l'appoggio per c'è la noglue mininkovic savage dice di no stiamo commentando veramente un assedio totale da parte dell'inter un torino che non sta facendo letteralmente nulla tempo di cambi per il toro sono tre lazaro singove voda kennedy alvarez rodriguez ruolo per ruolo non cambiamo modulo vogliamo rimanere comunque con questo modulo con la difesa tre va diretti da ricci poi sbaglia allora ancora inter rino veramente che nell'amichevoli sembrava perfetto sotto l'aspetto del possesso e qua invece gli errori da parte dei singoli portano i gol per l'inter che comunque sarebbero a prescindere arrivati perché la squadra è oggettivamente molto più forte di noi ma questo contropiede per i neri azzurri nasce da un errore da parte di ricci che regala inspiegabilmente palla all'inter e ne approfitta prossima partita cremonese torino inizia già a essere fondamentale poi per il percorso che vuole intraprendere il toro in questa stagione parella chic sinistro sono addirittura cinque segna anche patrick chic lungo per voi voda e non punta l'uomo ma non c'è neanche più tempo finisce qui la prima partita della serie a per il toro è un pesantissimo 5-0 a favore dell'inter contro la cremonese allo zini dovrebbe essere lo stadio della cremonese di ballardini del balla che si presenta con un 3-1-4-2 in realtà un 3-5-2 quadra che ha comprato Shelby mi ha un attimino sorpreso la presenza di Shelby il toro intanto di Juric Scurs buongiorno e il debutto del 22 di Gaston Alvarez Singo Ricilic Kennedy e Miran Cukvlasic alle spalle di Tony Sanabria questa la formazione del toro di Ivan Juric come sempre modifiche durante la partita nella lettura poi della partita sperando assistere a una prestazione totalmente diversa a vedere un toro anzi a rivedere quel toro che avevamo visto brillante nella preseason si va da Singo una delle Miran Cuk si libera molto bene attenzione passaggio per Vlasic la conclusione subito il torino pericoloso la risposta di Carnesecchi l'essers il pallone passa esce Milinkovic Savic e il pallone e il pallone entra comunque e il pallone entra comunque il vantaggio della Cremonese la palla con l'aiuto della goal line vediamo il pasticcio da parte di Milinkovic Savic Kennedy che la controlla benissimo e poi Carnesecchi salva la Cremonese due grandissime occasioni per il toro intanto ci segnalano l'infortunio per Ricci piove sul bagnato dentro sforza ma avremo diciamo 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 l'aiuto di Alvarez da braccetto sovrapponito gioca come attaccante io direi di invece dare più forza alle fasce quindi cambi a livello di istruzioni per il nostro braccetto di sinistra e entra sforza al posto di Ricci servire Sanabria Vlasic deve calciare lo fa di nuovo Carnesecchi siamo già tre tiri davvero molto pericolosi loro un tiro un gol stupidissimo avanza palla al piede bello questo passaggio per Mirancic che deve incrociare prende il legno non è finita Vlasic e Carnesecchi in qualche modo fa sul pallone potremmo ancora una volta pensare di lavorare lanci lunghi dal momento che vediamo una loro difesa che è decisamente molto alta da davanti abbiamo giocatori rapidi veloci probabilmente più veloci rispetto ai loro difensori potremmo provare a sorprenderli così chiaramente però dovremmo anche poi stare attenti alla condizione di Sanabria visto che mi sembra già essere abbastanza stanco buon aiuto di nuovo la Cremonesi ok Reke Milinkovic Savic distinto ma palla Mirancic si va direttamente da lui Sanabria vuole palla single e l'ho raccontentato attenzione la posizione da parte di Mirancic giudicata regolare ad ora Sanabria niente da fare Vlasic Sanabria la calcia malissimo TS9 la calcia malissimo Sanabria eccolo qui il passaggio che volevamo per Mirancic che però perde il tempo allora attenzione single a piazza Ilic gustare per Pichel che sbaglia tutto allora attenzione a questo possibile contropiede da parte del Torino Vlasic subito lungo per Mirancic bellissimo questo tocco di prima per Sanabria però calibrato non perfettamente atterrato ragazzi bruttissimo intervento questo cartellino giallo Pietro Pellegri e Zima come avevo detto Pellegri avrebbe stato il primo cambio in questo secondo tempo 20 minuti al termine si è un po' spento il Toro in questo finale di gara attenzione adesso la Cremonese che ne può approfittare Dessers salva Milinkovic Savic di nuovo va ad allargare poi bel pallone per Mirancic dietro per Ilic ancora il pallone per Mirancic la conclusione di Vlasic io non ho più parole non so più cosa dire questo ragazzi era un rigore in movimento speriamo adesso nel corner speriamo nella palla inattiva speriamo in un miracolo Ilic primo pallone il pallone che rimane lì attenzione all'acrobazia allora Gaston Alvarez serve corto Vlasic può calciare può calciare Vlasic 1-1 l'assist di Alvarez la conclusione di Nicola Vlasic la prima rete stagionale per il Toro 7 minuti adesso 7 minuti per cercare adesso il gol vittoria bravissimo Lazzaro che evita il corner finisce qui finisce qui con il primo punto in questa stagione per il Torino ci aspettavamo 3 punti però siamo stati davvero poco precisi là davanti brutto infortunio intanto per Ricci distorsione al ginocchio fuori per un mese non è esattamente l'inizio che mi aspettavo ragazzi pensavo in un Torino decisamente più convincente con l'Inter dove magari ci poteva anche stare la sconfitta ma speravo di fare qualcosina di più quel qualcosa di più l'abbiamo fatto con la Cremonese ma quel qualcosa di più non ha portato gol ne ha portato solamente uno assegna appunto Vlasic vediamo cosa aspettarci contro il Napoli adesso faremo a meno anche di Ricci un giocatore comunque validissimo ma un altro giocatore davvero molto valido è pronto a fare il suo debutto in questa stagione stiamo parlando di Karol Linetti per il resto invece confermata la stessa formazione del Torino in panchina si aggiunge la presenza di Radonic che può sicuramente subentrare a Mirancuk o a Vlasic questa insomma la formazione del Toro contro il Napoli di Luciano Spalletti che però attenzione nelle prime due partite di campionato una vittoria una sconfitta poi dopo questa partita sicuramente uno sguardo anche alla classifica intanto qui Usimen bravo Ilic a liberarsi molto bene Sanabria si va subito da Mirancuk Kennedy vogliamo partire subito forte non riesce a superare Semedo Kennedy diciamo che ha dalla sua un buon valore nel dribbling abbastanza agile ma non riesce quasi mai a saltare l'avversario Sanabria da dietro Elmas non c'è fallo Elmas difesa nostra che... vabbè ragazzi ho appunto dicendo difesa nostra che non è scoperta di più che posizioni erano? ma come stavano difendendo? il gol da parte del Torino il gol di Varaschelia qui abbiamo Buongiorno che non si sa dov'è ragazzi non avevo minimamente capito Buongiorno non ho capito niente cerchiamo di stare un attimino più bassi cerchiamo di metterci a 50 proviamo a lavorare così fase di non in possesso piuttosto che stare alti ci schiacciamo allora Victor Osimane Perzelinski lo stesso palla solamente a favore del Napoli a differenza però da partita con l'Inter sembriamo subire di meno l'unico gol subito diciamo che davvero ancora non me lo spiego intanto ecco il lancio per Vlasic la posizione regola da parte di Kennedy ma la chiusura da parte di Semedo è perfetta poi attenzione Kennedy recupera la conclusione di Kennedy è il miracolo di Meret Torino vuole pareggiare questa partita il Toro vuole iniziare a raccogliere punti attenzione al colpo di testa e Meret facile il movimento e l'inserimento a parte di Osimane la posizione regolare è il miracolo di Milinkovic Savic e non era fuori gioco allora togliamo gli inserimenti offensivi e cerchiamo dei passaggi diretti lasciando la manovra veloce condizione della squadra che mi sembra comunque ottima possiamo mantenere gli stessi protagonisti al primo tempo e vediamo di pareggiarla Lozano Elmas la spazio robotica per calciare la deviazione Osimane e allora di nuovo Napoli Osimane non riesce a girarsi perché interviene un super scurs ecco Kennedy che serve in maniera perfetta Sanabria il tacco per Miranciuk dobbiamo metterla dobbiamo metterla e non la mette Miranciuk diversi cambi Radonici Sforza Voivoda Lazaro vediamo ragazzi dare il massimo adesso nei prossimi 20 minuti decisamente più convincente rispetto alla preta con l'Inter ma ancora una volta troppo poco efficaci la davanti proverei anche ad abbassare i ritmi perlomeno equilibrato vediamo come riusciamo a gestire adesso questo momento perché abbassando i ritmi magari il Napoli avrà più facilità nel pressarci nel fare nell'attivare il pressing oppure magari noi avremo un attimino più calma per impostare e riuscire ad essere un attimino più precisi con i passaggi Voivoda Sforza finisce qui si poteva evitare il primo gol ragazzi primo gol davvero assurdo inspiegabile ma dobbiamo metterci diciamo nelle condizioni di affronti una grande abbassati senza avere paura senza vergognarsi di stare più bassi perché altrimenti sono soltanto appunto tanti gol vista appunto la superiorità tecnica che hanno loro là davanti con la Lazio ampiezza 70 passaggi diretti la creazione e occasione costruzione e manovra direi di lasciare equilibrato e chiaramente la profondità l'abbiamo decisamente abbassata questa è la formazione con l'unica novità Rodriguez per il resto la solita formazione come sempre insomma sapete dell'assenza di Ricci però può iniziare Torino-Lazio ultima partita dell'episodio immobile movimento da parte di Felipe Anders vediamo se lo segue Ciro no va largo da Riccardo Pereira poi Felipe Anders immobile di prima ci prova Emilinkovic salva il Toro alla prima occasione Lazio sfida tra fratelli infatti Sergei anche lui titolare Sergei Milinkovic Luis Alberto immobile spalla la porta Luis Alberto attenzione la posizione di Sergei contro Milinkovic Plasic allora si va da Sanabria poi dietro Perilic Sanabria si gira sinistro e Maximiano salva perché da davanti non siamo veramente non abbiamo un grande attacco dobbiamo fare un grande investimento da davanti per gennaio Alberto bravo Rodriguez riesce a chiudere molto bene bravo anche Vlasic nel liberarsi della pressione allora attenzione perché si lancia Sanabria poi di prima si va verso Kennedy non combiniamo cose eh vai Kennedy vabbè poteva lasciare continuare a giocare l'arbitro comunque la munizione per Romagnoli però il possesso era nostro scelta un po' discutibile quella da parte dell'arbitro però attenzione perché la punizione qui per il Toro è interessante parte Mirancuc che fa direttamente in porta fa direttamente in porta Mirancuc 1-0 Toro e finalmente finalmente in vantaggio primo gol dove il Toro passa ufficialmente in vantaggio in questa stagione alla quarta giornata punizione fantastica per Mirancuc il gol difficile lo troviamo i gol invece facili non non li troviamo mai vabbè la posizione regolare del fratello Sergei Milinkovic che alla fine segna proprio lui il pareggio per la Lazio la posizione ahimè purtroppo regolare stiamo parlando veramente di millimetri probabilmente però a tenerle in gioco Scurs assolutamente non neanche di millimetri siccome era proprio completamente regolare dentro Dembasec con anche un'istruzione diversa rispetto a quella di Tony Sanabria però insomma è il cambio che si deve ancora verificare Pellegrini Milinkovic Savic Luisa Alberta spazio per inventare ha cercato no no ragazzi no no vi prego ditemi che non è vero ditemi che non è vero Cire Immobile il gol della Lazio il gol del 2-1 ma rivediamo il replay per favore Buongiorno è stato uno di quelli che ha sbagliato di meno in questo episodio Capitan Buongiorno regala il gol alla Lazio dentro Lazaro dentro Zima Buongiorno sicuramente non soddisfatto dentro anche Caramò tre minuti per sperare nel pareggio anche qui un'altra partita davvero strana Kennedy Caramò ancora tentativo per il Toro siamo ormai allo scadere Kennedy sforza orizzontale per Linetti largo per Caramò c'è Kennedy la posizione regolare tentativo perché un giocatore della Lazio è caduto e quindi Kennedy ne può profittare il passaggio per Denbassek il passaggio per Denbassek che dalla panchina segna e trova la rete del definitivo 2-2 il Torino trova un altro punto contro la Lazio purtroppo non arriva nei tre punti sarebbero dovuti arrivare con la Cremonese ma di sicuro questo pareggio con la Lazio prendiamo in maniera assolutamente positiva intanto l'assist anche da segnalare da parte di Kennedy e il sinistro di prima intenzione a spiazzare Maximiano e ce lo facciamo andare bene così questo episodio nel prossimo guarderemo la classifica nel prossimo altre partite nel prossimo speriamo di iniziare a commentare le prime vittorie del Torino ma comunque diciamo che lo chiudiamo abbastanza bene con questo giovane con questo ragazzo che si è messo in mostra così con un super goal con un goal che salve il Toro ciao ragazzi alla prossima grazie a tutti grazie a tutti